Cari amici ci sono novità a Telegranda, il mercoledì spunti di viaggio dopo il telegiornale verso le 19.30, il giovedì spunti di fisco sempre alle 19.30 ed infine il venerdì sera sempre dopo il Tg abbiamo invece spunti di previdenza e assistenza. Non mancate, saranno molto molto interessanti le cose che i nostri esperti vi racconteranno allora mercoledì, giovedì, venerdì alle 19.30.